Musica Virginio Brivio, candidato sindaco di Lecco, con lo slogan è ora di cambiare, perché? Sono 17 anni che la Lega governa con il sindaco questa città, una parte di questi anni anche negli ultimi due legislature con la PDL, noi crediamo che in questo momento il bilancio che i cittadini devono trarre è un bilancio sicuramente negativo, soprattutto gli ultimi anni sono stati anni in cui la città è stata ferma, in cui tantissime opere attese da anni e già finanziate sono state in qualche modo bloccate. In più manca anche un progetto di futuro che noi invece intendiamo dare a questa città, che non può vivere solo di un ricordo di una tradizione positivissima sul manifatturiero, sull'industria, ma deve anche sapere cogliere nuove opportunità sia nell'industria ma anche nel settore dei servizi e del turismo. Perché i cittadini di Lecco quindi dovrebbero votarla? Qual è il vostro punto di forza? Perché metteremo al primo posto il servizio ai cittadini e il ruolo istituzionale e non le beghe di partito, perché ci vogliamo rivolgere anche a chi non la pensa come noi a livello magari nazionale, a livello più generale, ma chi ha fiducia che un gruppo di persone che vuole solo il bene di questa città, che vuole far ripartire tutte quelle attività che sono ferme, che sono ripiegate su se stesse, e ribadisco lo vuole fare con uno spirito molto di servizio e molto legato alla istituzione.